Nel contesto del Memorial Peppe Greco è stato assegnato il premio Candido Cannavò, istituito nel 2009 in occasione della ventesima edizione per ricordare la figura del grande ciciliano, uomo di sport, direttore storico della Gazzetta dello Sport, da sempre vicino all'atletica e che non aveva mai fatto mancare il suo apprezzamento per il Memorial ciclitano. Del prestigioso riconoscimento sono stati insegniti nel 2009 il generale Gianni Gola, nel 2010 Giorgio Scarso, presidente della FEDER Scherma, nel 2010 a Massimo Costa, presidente del CONI Sicilia, nel 2012 a Franco Musso, presidente della FEDER Ginnastica Sicilia, nel 2013 a Jenny Ladelfa, presidente della FMSI Sicilia, nel 2014 a Gian Stefano Pazzalacqua, presidente della squadra basket donne di Ragusa, nel 2015 a Sandro Morgana, vicepresidente della Lega Nazionale di Lettanti. Quest'anno l'insegnito è stato il colonnello Vincenzo Parrinello, comandante del gruppo sportivo Fiamme Gialle e vicepresidente della FIDAL Nazionale. Sentiamo la sua dichiarazione. Per me è un motivo di grandissimo orgoglio, penso di aver fatto pochissimo per meritarlo, ringrazio veramente chi ha pensato a me, penso di aver, penso più che meritare il premio, penso di essere stato invece tanto fortunato nella mia vita, essere riuscito a fare un lavoro che mi piace, un lavoro che ho cominciato a fare per hobby e che poi invece si è sviluppato in una professione. Naturalmente penso anche con grande riconoscenza alla figura del direttore Cannavò, che ho cominciato a leggere da quando avevo 10-11 anni e che ho cominciato a leggere da quando avevo 10-11 anni